per la questione dell'invasione adesso non so bene come c'è il regolamento però se la palla non è più recuperabile e comunque sì effettivamente l'invasione c'è stata però comunque da quello che dice il regolamento in teoria dovrebbe essere una palla non si può più recuperare però adesso io non voglio... Fabio lo rivediamo però ciò lo fa rivedere alla legge così almeno ci rendiamo conto questa è l'azione guarda l'attacco di Camerasia perfetto allora quando la palla è in aria lui praticamente prende la rete lui invece di spostarsi dall'altra parte è andato appeso morto sopra la rete però adesso questo è un problema di regolamento l'interpretazione degli arbitri è stata questa io invece metto l'accento solamente su un freno ok una curva in anticipo e non entrare nella rete aveva tutto il tempo per eventualmente fermarsi ma questa non è polemica il problema è